Cari amici, abbiamo visto come per questo nuovo provvedimento che dovrebbe vietare la messa in rito antico in modo rigoroso e definitivo, sia prevista la data del prossimo 16 luglio. Ricordava Nico Spuntoni sul giornale che anche Tradizioni Scustodes, lo pseudo motu proprio del 2021 con cui Bergoglio colpiva il Summorum Pontificum di Papa Benedetto XVI, lo annullava e dava una prima stretta alla celebrazione del rito antico che Benedetto XVI aveva per così dire liberalizzato, anche Tradizioni Scustodes fu promulgato il 16 luglio, 16 luglio del 2021, 16 luglio del 2024, per colpire il rito antico. Abbiamo visto per quale motivo nel precedente podcast per produrre in modo scientifico per così dire una messa illecita e peccaminosa, cioè dichiaratamente in unione con l'antipapa. Perché? Perché mentre nel rito antico questa unione con la Chiesa, con il Papa non è detta ad alta voce, nel novus ordo che sarà l'unica forma disponibile, questo dovrà essere dichiarato ad alta voce. Quindi sopravvivrà solamente una messa dichiaratamente in unione con l'antipapa, dichiaratamente illecita e peccaminosa secondo quanto dice San Tommaso d'Aquino. Allora che cosa succede il 16 luglio? Il 16 luglio ricorre la festa di Maria Santissima del Carmelo. Il calendario liturgico celebra questa festa per commemorare l'apparizione della Vergine a San Simone Stock, priore generale dell'Ordine dei Carmelitani, avvenuta sul Monte Carmelo in Palestina il 16 luglio 1251. Ora che cosa succede sul Monte Carmelo nell'Antico Testamento? Allora dovete sapere che il popolo precedente gli israeliti erano i Cananei. I Cananei adoravano Baal, il nome del dio principale adorato nell'antica Canaan e in Fenicia. La pratica del culto di Baal si infiltrò nella vita religiosa ebraica durante il tempo dei giudici e si diffuse in Israele durante il regno di Ahab e influenzò anche Giuda. Baal era un dio della fertilità che si credeva desse alla terra la capacità di produrre raccolti e agli uomini di quella di procreare. Secondo la mitologia cananea Baal era il figlio di El, il dio principale ed era considerato il più potente fra tutti gli dèi eglissando persino El che veniva visto piuttosto come debole e inefficiente. Certe volte per placare Baal era necessario il sacrificio umano di solito del primo genito. Baal era sposato per così dire con sua sorella Astarte, la madre terra. Era un dio della fertilità, era il dio del sole, il dio della pioggia, il dio della rugiada. Ora prima che gli ebrei entrassero nella terra promessa il Signore Dio li avvertì contro il culto dei cananei ma Israele si abbandonò comunque all'idolatria. Durante il regno di Ahab e Jezebel quando il culto di Baal era all'apice in Israele Dio confrontò direttamente il paganesimo con il profeta Elia. Dimostrò che era lui, non Baal, a controllare la pioggia mandando una carestia che durò tre anni e mezzo. In seguito Elia sfidò i profeti di Baal ad uno scontro finale sul monte Carmelo per provare una volta per tutte chi fosse il vero dio. Così per tutto il giorno 450 profeti di Baal invocarono il loro dio affinché mandasse fuoco dal cielo, compito che avrebbe dovuto essere facile per un dio associato ai fulmi. Ma non si udì alcuna voce, nessuno rispose e nessuno diede l'ororetta. Quando i profeti di Baal rinunciarono Elia fece una semplice preghiera e Dio rispose immediatamente inviando fuoco dal cielo. L'evidenza era schiacciante a tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. In Matteo 12, 27 Gesù chiama Satana Belzebub associando il diavolo a Baalzebub, una divinità filistea. I Baalim dell'antico testamento non erano altro che demoni mascherati da dei. Ogni forma di idolatria alla fine è adorazione del diavolo, come dice la prima lettera dei Corinzi. Ecco qua, sul monte Carmelo il profeta Elia sconfigge i sacerdoti di Baal e Astarte. Quindi a me sembra del tutto chiaro che la scelta di questa data non sia casuale, ma che sia ispirata a una sorta di vendetta storica contro Elia, contro il Dio di Israele, Dio poi dei cristiani. Così come Elia ha fatto fuori i nostri sacerdoti sul monte Carmelo, oggi noi facciamo fuori Elia, la messa in rito antico, la messa che consente di celebrare lecitamente l'Eucaristia, e la assoggetteremo all'antipapa per renderla illecita e peccaminosa, in omaggio a Baalzebub. Non ho le prove di questo, però vi invito a riflettere su questa strana coincidenza, su questa strana fissazione del 16 luglio. Magari dopo questo podcast decideranno di cambiare la data e avrete un'ulteriore conferma. Bene, grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere la nostra opera di divulgazione, un caro saluto a tutti.